D'arrivo sull'invio del traguardo dove Gisconti ha raggiunto Luis Leon Saracen Duprai e troppo tardi per andare a raggiungere il portacone del Monistaro e per l'appare dunque per Gisconti che cerca l'ultimo assalto con Gorka e Zaghiro che però è davanti, può permettersi di contare per scontrollare la situazione Gorka e Zaghiro ormai negli ultimi 100 metri ma diciamo perché si sta avvicinando ancora Giovanni Gisconti ma ormai è in pista del traguardo e allora alla ottava tappa del giro fa presto la Spagna, fa presto la Monistar, fa presto Gorka e Zaghiro il piazzamento, la seconda posizione per Giovanni Gisconti poi Luis Leon Sanchez e dietro gli uomini di creatività non serenia buona